Il dolore di una madre che ha perso la propria figlia ha unito la rabbia per la mancata tempestività nei soccorsi. A due anni dalla tragica morte di Christel Marcarini, la 19enne di Clusone promessa dello scibergamasco, deceduta dopo aver assunto ecstasy in discoteca, Maria Quistini, mamma della scomparsa, non si dà pace, raccontando come si sarebbe potuto evitare la tragedia. La cosa più che mi ha infastidita in questi due anni è che di certo la nostra perissia dei nostri dottori hanno esaminato che Christel poteva essere salva e lì c'è stata una mancanza di soccorso. E' quello lì che tutti i giorni non va dal cuore, è un dolore in continuo. Nella cameretta di Christel tutto è rimasto come allora, foto, pupazzi, trofei e lettere raccontano la gioia di vivere di quella ragazza tirata su a pane e sci che muore in uno squallido sballo da sabato sera e i cui organi hanno ridato vita ad altre persone. Beh, io ho delle persone fantastiche, credo. Io sono convinta che il sacrificio che Christel ha fatto, che ha donato vita a altre persone, è la cosa più grande, perché è la cosa più bella che mi è rimasto, perché comunque sono le persone che ho più vicino, veramente. Io le ho vicino quasi tutti i giorni. Qui siamo nella stanza di Christel, tu dicevi man mano si avvicina la data dell'anniversario, io vengo qui per sentirla più vicina. Qui ci sono anche le foto delle amiche, il rapporto con le amiche di Christel. Quelli che veramente erano amiche di Christel c'è un bel rapporto, perché comunque Christel il 28 marzo ha fatto i 21 anni, compieva 21 anni. Sulla tomba ho trovato comunque che sono passate delle amiche carissime, ma qua parliamo di amiche dello sci, che veramente quelli lì erano amiche. Io altre amiche, che amiche che lei aveva comunque quella sera lì, posso dire che è tanto che non li sento. A portare un raggio di sole nella villetta di Via Sales è la piccola Christel Cominelli, figlia di Suellen, sorella della scomparsa, che sarà ricordata con una santa messa celebrata al patronato San Vincenzo di Clusone, giovedì 15 aprile alle 20.30. Quando guardo lei è come se vedesse Christel, come se fosse lì Christel, però mi nasce anche un pensiero di dire se c'era lei era già tutto diverso, e chissà quanto lei gioiva da allora, quando sapeva che poi sua sorella aspettava, era strafelice, gliel'aveva raccontato a tutto il paese di Clusone, era felicissimo. Si susseguono le fasi processuali, la prossima udienza è fissata per lunedì 26 aprile, giorno in cui potrebbe arrivare la sentenza.